E' stato siglato un protocollo d'intesa tra la consulta regionale europea e il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino per integrare le reciproche attività in campo di Blue Economy per creare un modello innovativo di sviluppo sociale. L'iniziativa si è svolta presso il Museo del Gusto di Frossasco in provincia di Torino.